ciao simone ben trovato dopo un po di tempo ci rivediamo allora inizi venerdì prossimo e per i prossimi weekend farai delle lezioni all'entrileville ars in fabola di cosa ti occuperai sullo specifico ciao marco è un piacere vederti anche se solo tramite social allora dai prima o poi ci abbracceremo allora durante il il mio incontro parleremo del dello studio del personaggio quindi faremo vari esercizi dedicati allo studio del personaggio come poterlo riprodurre ad esempio nel in un albo illustrato soprattutto con tecniche più complicate del più difficili data che non sono adatte alla riproduzione la riproducibilità ecco e per quanto riguarda la tecnica mostrerai qualcosa allora ovviamente farò vedere il la mia tecnica però una dimostrazione la mia tecnica ad acrilico ma in generale proveremo questa tecnica cercando di trovare un po il modo più personale di dire di utilizzarla ecco e appunto l'acrilico non è una tecnica così facile così facile soprattutto per la riproduzione dei personaggi ci sono delle degli escamotage che possiamo utilizzare quando dipingiamo ad acrilico e li vedremo durante durante questo incontro perfetto senti ci dai qualche anticipazione di su che cosa stai lavorando adesso allora adesso sto facendo vari libri e sto chiuso un libro da pochissimo con una casa editrice spagnola che si chiama buon paso in realtà lei è italiana si chiama arianna squilloni e l'ho appena consegnato è molto divertente e però adesso vi faccio vi farò vedere una un qualcosina dedicata al l'ultimo lavoro che al quale in realtà manca solo la copertina se si sbloccasse o eccolo allora pinocchio pinocchio sempre una casa editrice spagnola è un pinocchio un po particolare perché viene verrà stampato in offset quindi le tavole sono realizzate ad acrilico l'ho dovuto elaborare con procreate e photoshop e proprio per soddisfare la richiesta tecnica della della stampa e come vi dicevo una stampa offset e ha bisogno di delle operazioni tecniche lavorando sui canali e niente quindi il lavoro è acrilico su acetato una cosa che vorrò che vedrete che vi mostrerò durante il workshop e scansionata e poi elaborata in digitale benissimo allora siamo curiosissimi di vedere cosa cosa ci racconterai e ci vedremo appunto nei prossimi tre weekend con le sezioni a b e c del dell'entrile velarsi in favola quindi ti do ti do appuntamento a lezione e ci vediamo presto ciao marco a presto ciao a tutti buona giornata